Ed eccoci qui fresco di stampa questo meraviglioso omaggio al maestro Luciano Somma che è lo scrittore Mauro Montacchiesi di Roma, mio carissimo amico, poeta, grande conoscitore anche delle mie opere, e lui stesso, bravissimo poeta, ha voluto omaggiarmi con foto, con tutto un curriculum vitae, con poesie, articoli, c'è un po' di tutto in questo libro. Lo potete trovare attraverso Amazon sia in Italia che all'estero, infatti vedete che la pubblicazione è edita proprio dall'Amazon. Se lo ritenete opportuno acquistatelo e magari mi inviate una foto col libro, in modo da metterlo nei vari blog, così pubblicizzeremo un po' la cosa. Grazie a voi, a tutti e soprattutto al carissimo amico che abbraccio Mauro Montacchiesi.